buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com eccoci qui in questo nuovo video stasera con il mal di testa e tenuta casalinga ma facciamo comunque il video perché è importantissimo continuare a seguire questi europei allora purtroppo non è stato un buon turno per l'italia se per quanto riguarda l'open che per quanto riguarda la femminile qui stiamo guardando la femminile che giocava contro la prima in classifica che era la russia e purtroppo abbiamo fatto uno e mezzo contro due e mezzo quindi abbiamo perso anche se abbiamo cercato di combattere al meglio questa sconfitta purtroppo ci ha fatto andare un pochettino indietro eravamo secondi in classifica e adesso attualmente siamo sesti con 7 punti la russia schizza 10 punti e inizia a essere quasi irrecuperabile però pian pianino pian pianino secondo noi ce la possiamo fare con la speranza che la russia prima o poi faccia una patta un parere una sconfitta sarebbe molto interessante questo è l'italia per quanto riguarda la nazionale femminile andiamo a vedere invece il team italiano della maschile bisogna andare un po nelle retrovie siamo qui giocavamo questo turno contro la finlandia non c'era non c'erano giocatori su carta fortissimi super gran maestri robe varie non ne vediamo ma ovviamente la carta una cosa la forma fisica la preparazione in quel momento un'altra cosa l'emozione un'altra cosa ancora e niente c'erano comunque giocatori forti anche per quanto riguarda la finlandia ma purtroppo abbiamo avuto lo stesso punteggio che hanno fatto con la femminile contro la russia cioè uno e mezzo contro due e mezzo ci andremo a vedere oggi la partita di luca moroni junior col bianco che ha disputato una bellissima partita che adesso andremo a commentare assieme contro agopov che è praticamente stato tre volte campione finlandese quindi un giocatore direi abbastanza forte andiamo a vedere come si è svolta la partita c4 come si chiama questa apertura bravi apertura inglese c4 c5 col f3 ecco questa si chiama variante simmetrica dove entrambi i giocatori giocano col pedone c5 qui si può giocare di tutto d5 d6 e6 e5 cavallo f6 tutto si può giocare c5 molto interessante cavallo f3 cavallo c6 d4 qui tutta teoria cattura sviluppo di altro cavallo c3 e6 e e4 il bianco vuole super controllare il centro e in particolar modo cambiamo il colore che meglio la casa d5 alfiere b4 inchiodando il cavallo essendo il cavallo inchiodato adesso il pedone in e4 è in presa bisogna correre ripari chiaramente non si può giocare subito alfiere d3 con l'idea di difendere questo pedone altrimenti si regala a gratis un cavallo ma prima si cambia il cavallo adesso qui il nero può catturare con i due pedoni sia col pedone in D che col pedone in B la cattura leggermente più corretta è quella con il pedone in B poiché c'è un principio degli scacchi che dice se è possibile ricatturiamo sempre in modo tale che i pedoni convergano verso il centro così il pedone andrebbe verso l'esterno un pedone centrale diventerebbe semicentrale così un pedone semi 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 centrale diventa semicentrale ok alfiere d3 adesso per proteggere questo pedone e e5 questa mossa sembra che abbia fatto perdere un tempo al nero perché il nero prima ha giocato e6 poi gioca e5 però è fondamentale perché se qui ora il nero giocasse una mossa tipo arroco potrebbe essere una mossa spontanea e5 è troppo forte il bianco prende spazio questo cavallo tra l'altro poverino non può andare neanche in d5 ed è fregato è costretto andare in e8 e non solo questa casa è super super controllata dal pedoncino e quindi in futuro il nero non potrà giocare di 5 seguirebbe presa al varco si creerebbero diverse isole di pedoni quindi qui il bianco andrebbe stare parecchio bene quindi e5 è la mossa che deve giocare il nero arroco corto arroco corto e adesso h3 possiamo dire che qui siamo alla decima mossa siamo più o meno usciti dalla teoria cioè usciti dall'apertura torre e8 donna c2 la donna potrebbe andare anche in e2 c2 è più precisa alfiere c5 torre 1 d6 fin qui tutto assolutamente nella normalità per completare lo sviluppo bisogna togliere questo alfiere vediamo un pochettino se metterlo in una di queste case e poi centralizzare le torri alfiere in e3 chiedendo un cambio di alfieri l'alfiere si posiziona in d4 e comunque adesso luca moroni decide di cambiare gli alfieri questo cambio fa guadagnare tra virgolette un tempo al nero che minaccia questo cavallo che deve spostarsi il cavallo poi potrà riposizionarsi magari f4 g3 vediamo dove è c5 qui il nero sta sta si sta il nero sta a questa bella struttura pedonale che per quanto possa sembrare stramba e buona di colore opposto al proprio alfiere che si muove solo su case chiare e il pedone d4 viene denominato pedone passato c'è un pedone che è libero di andare a promozione in realtà c'è un pezzo che blocca ma è libero nel senso che non ci sono pedoni nelle case adiacenti da parte del bianco che possa ostacolare la fermata e l'avanzata di questo pedone è molto importante quando c'è un pedone passato mettere davanti se possibile un pezzo leggero che riesca a non far andare avanti in quel pedone cavallo g3 il cavallo cerca un'altra collocazione anche perché da qui ostruiva un pochettino il controllo della della torre alfiere b7 e adesso f4 mossa molto 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 coraggiosa f4 qualcuno potrebbe dire che è un indebolimento della posizione ma perché noi sappiamo che un pedone della rocco va bene due pedoni della rocco spinti creano un indebolimento ma tra un principio c'è sempre un altro cioè una debolezza è tale solo se può essere sfruttata è vero che potremmo dire che si è indebolita questa diagonale ma valla a sfruttare questa diagonale che è tutto chiuso quindi in realtà una debolezza è tale solo se può essere sfruttata donna c7 o finalmente anche lettori del nero comunicano donna f2 alla fine la donna decide che il posto migliore f2 dove da una mano al pedone f4 eventuali spinte controlla il cavallo g3 anche perché qui la donna stava facendo un po' di pressione a raggi x quindi guardate come i giocatori forti cercano sempre di evitare di lasciare i pezzi sospesi cioè pezzi in questo momento sono indifese il cavallo g3 è definito un pezzo sospeso donna f2 torre in e6 torre in e2 e qui entrambi i giocatori raddoppiano le proprie torri alfiere in c6 e ora mossa al bianco che mossa faresti io direi che i pezzi leggeri sono i pezzi in generale anche quelli pesanti sono tutti ben posizionati l'alfiere d3 abbiamo detto che deve rimanere a fare da blocco a questo pedone il cavallo in g3 sembra che stia abbastanza bene in f4 magari potrebbe essere interessante se non fosse che non appena il cavallo si toglie si perde il controllo perché contiamo con quanti pezzi noi difendiamo questo pedone un alfiere due torri siamo a tre un cavallo siamo a quattro abbiamo quattro difensori e lui con quanti ci sta attaccando un cavallo un alfiere due torri ci sta attaccando con quattro attaccanti noi abbiamo quattro difensori nel momento in cui andremo a togliere un difensore andremo a perdere la lotta su questo punto quindi abbiamo un pochettino tutti questi pezzi ancorati alla difesa di quel pedone la donna è abbastanza in trappola il resto abbastanza viene qui ne consegue che al momento o facciamo una mossa che ci fa perdere un pochettino il tempo oppure si farà una mossa di pedone ma quale mossa di pedone questi direi che stanno abbastanza bene f5 sarebbe un grave errore perché andremmo a creare un bellissimo buco su questa casa che potrebbe poi prendere il cavallo non so cavallo d7 cavallo n5 quindi bisogna guardare qui ad ovest e essenzialmente ci sono varie possibilità b3 può essere una di queste a3 può essere l'altra ma il bianco giocò b4 l'idea è di dare tranquillamente in un sacrificio un pedone per scombussolare la struttura pedonale il nero molto avaro che crede nel materiale gioca c per b4 e adesso questa è la struttura pedonale del nero questo è stato un'imprecisione accettare questo pedone perché adesso il bianco può tranquillamente andarsi a pappare pian pianino tutti i pedoni se ci riesce cavallo d7 il cavallo vuole prendere questa bellissima casa in c5 ma il bianco non gli permette subito di fare il suo piano e adesso che si è appena spostato un attaccante su questo punto anche noi possiamo liberare il nostro cavallo cavallo in f5 supportando la donna per un controindicazione f6 apre questa diagonale che potrà presto essere sfruttata e proprio perché guarda incredibile cosa succede nella mente dei gran maestri spinta di pedone si è creata una debolezza qual è la debolezza e questa diagonale allora adesso quasi quale sarà la prossima mossa non riesco a vederla beh il gran maestro luca moroni giocò c5 gioco ha giocata ieri sembra sembra dieci anni fa c5 qual è l'idea di c5 che può essere catturato sia col pedone che col cavallo sembra un vero sacrificio l'idea è quello di prendersi il controllo di questa diagonale far fare finalmente qualcosa proprio alfiere qui il in partita il nero ha catturato di pedone sembrava un pochettino meglio la cattura di cavallo ma posizionalmente sì però non funziona perché tatticamente c'è alfiere c4 e quindi bisogna catturare di pedone vediamo come è andata dopo la cattura di pedone che tra l'altro guadagna un tempo minacciando la donna che deve ritirarsi però c'è sempre questo tipo di minaccia ora il nero è in vantaggio di un pedone tra l'altro anche la maggioranza qui sulla la di donna ha tre pedoni contro uno quindi ora uno dei possibili piani di gioco del nero sarà quello di cercare di spingere i propri pedoni per andare a promozione dicevamo che c'è sempre questa risorsa tattica sull'inchiudatura della torre poi si va in vantaggio di qualità il re si sposta per evitare questo giochino e adesso e5 con grande coraggio si fa questa mossa e5 è una mossa molto coraggiosa per varie ragioni in primis perché si rende più forte l'alfiere dell'avversario perché gli apri a gratis come si dice dalle nostre parti la diagonale ma è anche vero che e5 toglie spazio ai pezzi avversari rende forte il nostro alfiere a raggi x e possono esserci cose parecchio interessanti quindi bisogna sempre capire se la debolezza che noi andiamo a creare e poi ci crea un compenso tale da far sì che quella debolezza vada in secondo piano mamma mia oggi sto zeccando tutti i congiuntivi sarà il mal di testa ma sono gasato il nero gioca alfiere di 5 per tenersi subito quella diagonale ok tu vuoi entrare col tuo alfiere su quella diagonale io non ti faccio entrare ci sta ci sta vediamo se che cosa sarebbe potuto accadere per esempio su un f per e5 purtroppo questa mossa avrebbe portato il bianco in grande vantaggio poiché dopo f per e5 ci sarebbero stati gli attacchi a raggi x ora per esempio il re qui si sarebbe assolutamente dovuto spostare e qui su questa c'era ancora una volta alfiere c4 se re non si spostava e si giocava per esempio torre per e6 ci sono semplicemente gli scacchi di scoperta come per esempio cavallo d6 scacco di scoperta e alla prossima salta la torre con f6 e si va in vantaggio di qualità motivo per cui è stata giocata alfiere d5 ora tocca al bianco che in queste posizioni ragazzi bisogna riuscire a qui il bianco c'ha l'iniziativa si capisce no belle spinte ha invaso la metà campo avversaria c'è un pedone in quinta traversa insomma tutto dice all'interno della mente dello scacchista e dell'intuito un po che che ti dà l'esperienza che qui il bianco deve attaccare deve portare avanti l'iniziativa perché se un giorno mai svanisse questa iniziativa e il bianco potrebbe ritrovarsi con la situazione capovolta qui ci sono varie mosse molto buona una senza dubbio cavallo d6 ottimo avampostone per questo cavallo ma qui luca moroni sceglie per donna h4 ancora più concreto ancora più incisivo ancora più materialista anche lui crede nel materiale e a questo punto f per e5 f per e5 anche il nero è molto materialista ma adesso ti chiedo di mettere in pausa il video io tanto farò scorrere il video per 10 secondi e ti chiedo di trovare la prossima mossa geniale per il bianco vai ok hai trovato una buona mossa per il bianco ti dico che è un sacrificio ed è un sacrificio di cavallo in g7 valla a pensare una mossa di questo tipo che cosa fa il cavallo il cavallo libera è l'alfiere su h7 dunque su cavallo per g7 il nero capisce è l'andazzo che non è buono gioca c4 però voglio analizzare insieme a te che cosa sarebbe potuto accadere su re per g7 chiaramente qui non avrebbe senso andare di alfiere bisogna andare di donna che è supportata dall'alfiere donna per h7 la donna toglie questi spazi al re avversario anche questo chiaramente quindi ne consegue che il re può andare solo in f8 o in f6 andiamo ad analizzare entrambe le possibilità in f8 sembra che vada un pochettino nell'angolino si autofreghi a questo punto c'è f per e5 alla prossima segue torre in f1 e il nostro avversario ha praticamente perso la partita qui che cosa si può fare c'è lo scacco che cosa metti davanti devi mettere forza il cavallo di mettere la torre che cosa fai il re non può andare da nessuna parte quindi qui la partita sarebbe subito persa forse una difesa più tenace sarebbe con re in f6 ma qui come si continua l'attacco qui c'è la bellissima e sottilissima alfiere in f5 minaccia la torre e se questa torre scappa c'è subito un bellissimo scacco matto con donna g6 non ci sono case disponibili per il re e se la torre non scappa semplicemente se la torre scappa di qui ci sono una serie di attacchi molto forti f per e5 eccetera eccetera quindi il re in mezzo e comunque qui la situazione con una grande iniziativa da parte del bianco che prima o poi riuscirà a prendere tanto materiale se riuscirà a ottenere pedoni fortissimi spinte eccetera insomma qui il computer da un vantaggio di più 8 per il bianco quindi sicuramente buona il nero non se la sente e giustamente di entrare in questa situazione gioca c4 come dicevamo il nero cercherà di andare a promozione l'unica cosa che gli resta da fare visto che sta subendo un fortissimo attacco dall'altro lato tocca al bianco perché no allora a questo punto papparsi la torre il nero decide di lasciare volontariamente la qualità proprio perché la combinazione di questo cavallo in attacco con la donna e con l'alfiere sarebbe potuta essere mortale quindi cavallo per torre per e6 e adesso alfiere f5 ancora una volta questo alfiere si riposiziona prima che il nero possa fare e4 che avrebbe murato vivo il nostro alfiere con questa mostra il nostro alfiere respira e continua ad essere attivo e4 eccola la mossa di cui aveva paura il bianco e se ci fai caso il nero ha lasciato la seconda qualità e noi ce la pappiamo alfiere per e a questo punto prima prima di appunto giocare alfiere 6 leggermente meglio è questo scacco e così si può riprendere di donna a questo punto siamo decisamente in vantaggio di materiale abbiamo due qualità per due pezzi leggeri anche se il nostro avversario è messo piuttosto bene di pedoni noi abbiamo quattro pedoni il nostro avversario ne ha 5 3 4 5 ok comunque c'è una maggioranza dei pedoni che sembrano essere in fuga attenzione non è una situazione vinta così facilmente perché non so se riesce a vedere ma le torri sono forti quando riescono a muoversi sulle colonne e tu vedi qualche colonna aperta ora per queste torri io non ne vedo quindi non è non è facile intanto tocca al bianco donna h7 il computer dice che un attimino meglio sarebbe stata questo scacco riportando poi la donna sull'ala di donna che avrebbe potuto creare danni e soprattutto avrebbe dato una mano a guardare quei pedoncini che magari potrebbero diventare pericolosi ma sicuramente donna h7 va benissimo cavallo c5 donna c7 cavallo d3 e ora come dicevo prima tutte le colonne sono chiuse questo cavallo ha completamente murato viva la la colonna d e quindi il bianco si ritrova con due torri che però poverine veramente non stanno facendo nulla intanto che le due torri non fanno nulla la donna continua a fare piazza pulita donna b8 re in e7 ipappo un altro pedone re d6 torre b1 alfiere c6 donna b8 scacco re c5 e a questo punto il bianco qui il computer consiglia di continuare a giocare questa questa ma probabilmente il bianco essendo un grandissimo vantaggio di materiale decide di restituire a volte per migliorare la propria situazione non c'è nulla di mare nel restituire il materiale qui viene giocata torre neva in b2 mettendo proprio quella torre in pasto al cavallo il cavallo è il nero accetta di buon gusto e ora la situazione è questa qui il vantaggio di materiale del bianco rimane e dopo b3 abbiamo a per b3 qui un'altra possibilità che magari tu diceva perché qui non ha spinto per esempio e3 c'era donna per b4 scacco quindi è più corretta spingere questa a per b3 c3 e a questo punto donna 7 scacco e adesso qui il re inizia ad avere poche case tra l'altro fra poco anche la torre potrà iniziare a dare scacco re b5 torre in a2 adesso la torre può supportare la donna che può dare scacchi molto forti donna per b3 torre per a5 ora c'è un problema qui probabilmente il nero ha provato il tutto per tutto però guarda cosa succede la donna per andare a papparsi questo pedone forse vuole a supportare anche la promozione di questo pedone ha lasciato questo alfiere solo alla difesa del re ora è chiaro che con una serie di scacchi il bianco riuscirà a far spostare questo re e infatti scacco di torre re c4 donna c5 attacco doppio il re si deve spostare e si perderà l'alfiere bam il vantaggio di materiale del bianco è divenuto di più 6 però c'è da dire che il nero ha delle ottime possibilità ci sono due pedoni che stanno per diventare regine bisogna assolutamente fermarli torre d5 scacco il re si pone davanti ad uno dei pedoni quindi un pedone in fuga è stato fermato torre b5 prendiamo tempo minacciando la donna donna in a4 che inchioda la nostra torre ma noi ci possiamo schiodare facilmente con uno scacco intermedio di donna re d3 scacco di torre perfetto torre protetta si veda scacco al re re c4 donna in e4 attenzione chi c'è dietro il re re in b3 e qui in modo molto ma molto coraggioso luca moroni giocò donna per e3 chiaramente qui la situazione è finita io onestamente da fiffone quale sono avrei giocato dopo questo è il cambio delle donne poiché dopo il cambio delle donne la partita è abbastanza finita qui essenzialmente metterei la torre sulla colonna c e con re cercherei di avvicinarmi no supponiamo una situazione di questo tipo mi avvicino sempre con re quando lui va in fuga metto la torre in c5 così non appena va a promozione sacrifico anche la torre inizio a spingere ok sacrifico la torre e adesso re in e2 la situazione è praticamente finita quindi io da fiffone avrei giocato in questo modo la soluzione scelta per chiudere una partita che in realtà è già vinta bellissima è donna per e3 proprio non ti lascio neanche una minima possibilità tra l'altro questo pedone non lo puoi spingere perché è inchiodato quindi ottima partita nonostante questa bellissima vittoria in prima scacchiera non è bastata purtroppo per battere i nostri amici finlandesi vediamo se dico una cavolata ok no va bene speriamo che il prossimo turno vada meglio l'italia purtroppo maschile adesso è al 26esimo posto e siamo praticamente a non dico a metà classifica ma quasi è con la russia che invece vola vola però appartenente a pari merito con l'ungheria azerbaijan l'ucraina insomma e tante tante no tante troppe no però comunque sono tutte lì anche la spagna 7 punti eccetera eccetera bene spero che la partita vi sia piaciuta ci vediamo domani con un altro prossimo turno anzi ci vediamo probabilmente nel pomeriggio poi vi spiego perché e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao